Il 2022 è stato un anno difficile per il mercato poiché la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse sei volte per combattere l'inflazione. La Federal Reserve ha annunciato mercoledì di aver aumentato il suo tasso chiave sui fondi federali dello 0,25% nel tentativo di continuare a esercitare pressioni a ribasso sulla crescita economica del suo tentativo di rallentare l'inflazione. È stato il più piccolo aumento dei tassi da quando la banca centrale ha avviato una campagna aggressiva che ha prodotto aumenti dei tassi quasi mensili dallo scorso marzo, diciamo da quando si è un po' andata a verificare l'invasione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. Ma nella sua conferenza stampa dopo l'annuncio dell'aumento dei tassi il presidente Jerome Powell ha affermato che lui e altri funzionali della Federal Reserve ritenevano che un paio di aumenti sarebbero stati probabilmente sufficienti per raggiungere un tasso di interesse sufficientemente alto a cui la Fed si sentirebbe a suo agio nel sospendere gli aumenti. Mentre ci sono ora ampi segnali che l'inflazione stia effettivamente rallentando, alcune indicazioni però ci suggeriscono che l'economia si sta già rigonfiando e che potrebbe far risalire di nuovo i prezzi. Ma in questo contesto ci si aiuta con le defensive stocks. Ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio, come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi, libro del quale puoi trovare il link qui sotto nel caso tu lo voglia acquistare dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da un addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole. Trovi il link sia per la versione cartacea che perché la Kindle qui sotto appunto nella descrizione di questo video, di tutti quanti i video che ho pubblicato. Mentre ci sono ampi segnali che l'inflazione stia effettivamente rallentando, alcune indicazioni suggeriscono che l'economia si sta già gonfiando, il che potrebbe far salire nuovamente i prezzi. Secondo un indice Bloomberg, le condizioni finanziarie degli Stati Uniti d'America sono scese a livello più debole dallo scorso febbraio, il che significa che sta diventando più facile prendere in prestito denaro e vendere di nuovo dei beni. Ciò si riflette nel calo dei tassi ipotecari medi che sono scesi al 6.13% dopo aver toccato un massimo del 7.08% a novembre del 2022. Inoltre l'aumento dei prezzi di materie prime come il petrolio, neanche l'indebolimento del dollaro USA e il miglioramento delle performance del mercato azionario hanno tutti contribuito a un cauto ottimismo sull'economia. C'è però da dire che con i sé e con i ma non si va da nessuna parte per cui non avendo noi, almeno io non ce l'ho la sfera di cristallo, non possiamo effettivamente capire come e dove ci andremo a dirigere in questo 2023, anche se le aspettative possono e dico possono e dico anche sembrare solamente, sembrare confortanti. In questo contesto come ho più volte citato in passato ci vengono in aiuto le defensive stocks, diciamo le azioni difensive. I titoli difensivi sono titoli che generano performance relativamente stabili indipendentemente dal ciclo di mercato. I titoli difensivi generalmente non scenderanno tanto quanto il mercato in generale in periodi di recessione e potrebbero non fare però altrettanto bene quando il mercato si trova nei periodi un po' più espansivi. Esempi di azioni difensive sono i principali beni di consumo di base che producono o vendono beni di prima necessità richiesti durante l'intero ciclo di mercato. Altri titoli difensivi hanno fossati molto ampi e sostanziali vantaggi competitivi che consendono loro di mantenere ampiamente le loro performance finanziarie durante le recessioni. Date le loro performance relativamente stabili molti titoli difensivi pagano dividendi abbastanza consistenti, molti degli stessi titoli difensivi hanno anche aumentato i propri dividendi annuali per molti anni consecutivi, le cosiddette dividend growth company. Va comunque notato che nulla è sicuro e per cui alcuni titoli difensivi potrebbero non rimanere sempre tali perché i settori potrebbero cambiare o la gestione aziendale potrebbe cambiare e questo non lo sappiamo a prescindere. Se un settore subisce un declino secolare i titoli difensivi possono sottoperformare. Allo stesso modo se il management di una società precedentemente difensiva decidesse di pagare più del dovuto per un'acquisizione anche il titolo potrebbe cominciare ad andare male. Come sempre il consiglio chiave è di possedere un portafoglio ben diversificato per quanto riguarda il contesto azionario in molti settori diversi. A meno che tu non sia Warren Buffett con un'ampia capacità di analisi non conviene concentrarsi in poche posizioni. Per cui ecco quali sono a mio parere le migliori tre azioni difensive per quanto riguarda il 2023 e per affrontarlo in scioltezza. Al terzo posto col ticker QSR ci metto Restaurant Brands, la società madre di Burger King, Tim Hortons, Popeyes, Louisiana Kitchen & Firehouse Subs di recente acquisizione. Restaurant Brands detiene alcuni dei marchi di altissima qualità nello spazio del fast food. Al di là della popolarità dei marchi e delle prospettive di crescita a mio parere c'è molto di più da apprezzare. Si tratta infatti di un'azienda che scambia solo 21 volte gli utili, molto al di sotto della sua media a lungo termine. Inoltre è un titolo con un rendimento da dividendo del 3.2%, anche molto meglio, delle sue gronto parti a grande capitalizzazione. In effetti la posizione del titolo QSR come gigante del fast food fornisce un solido modello di business che può effettivamente funzionare meglio nei periodi di stress. Guardando al futuro sicuramente la sua duale lotta col McDonald's sembra persa, considerando anche che la punta di diamante Burger King USA ha perso più punti di quote di mercato dalla pandemia rispetto a McDonald's che appunto le ha rubato tantissime quote di mercato. Ma si tratta di un'azienda che è in un trend di crescita con un dividendo che è coperto da un payout ratio del 68% e soprattutto con una crescita media degli ultimi anni del 22.6% su base anno, per cui un ottimo cuscino protettivo nel medio periodo nel caso le cose dovessero andare verso il peggio. Al secondo posto col ticker CLX io ci metto Clorox, produttore e distributore multinazionale di prodotti di consumo e professionali. L'azienda opera attraverso quattro segmenti diversi che sono salute e benessere, famiglie, lifestyles e international. I prodotti di questa società di Clorox sono venduti principalmente attraverso la grande distribuzione o attraverso i piccoli negozietti. Si tratta di un'azienda che produce prodotti di cui molto probabilmente non conoscete nessun nome in particolare, forse a parte le caraffe della Brita, ma che comunque aumenta il proprio dividendo da 45 anni consecutivi. Al momento fornisce un dividendo lordo del 3% circa con una media di aumento annua del 7.2%. Purtroppo si tratta di un'azienda che non ha i conti a posto al momento e per cui per tale motivo il suo payout ratio è estremamente elevato, ma ha resilienza dettata dalla produzione di prodotti che sono sempre necessari e che vengono venduti a prezzi molto accessibili. E questo comporta che la sua profittabilità è leggermente maggiore alla media dei competitors, avendo un 35.5% di margine lordo e un 5.75% di margine netto. Certo non ci si possono attendere grosse prospettive di crescita in termini di capital gain, ma a mio parere l'azienda è lì per restare a lungo. A primo posto ci metto col ticker V Visa. Proprio come Mastercard Visa a mio parere è da considerarsi come difensiva, come defensive stock, anche se fa parte di un comparto prettamente più tecnologico o growth, perché si prevede che la spesa dei consumatori aumenterà a lungo termine e la quota di mercato divisa potrebbe non cambiare, anzi potrebbe aumentare, ciò molto dato dai suoi forti effetti di rete se l'azienda continua a innovarsi come ha sempre fatto. Si tratta di un'azienda che a marci di lordi del 97% abbondante, neanche Totò quando si era messa a vendere la fontana di Trevi aveva questi margini. I margini netti sono attorno al 50% il che dà avvisa forti possibilità di innovazioni grazie all'enorme quantità di cash che va a creare. Inoltre è un basso dividendo, molto basso al di sotto del 1% con un payout ratio del 21% e una crescita di questo su base anno, sentite un po', di una media del 18% scarso. Questo viene avventato da 14 anni e questo lo mette in luce anche sotto il punto di vista del lungo termine per quanto riguarda un investitore in dividendi considerando che quando il suo ciclo varierà diventando un'azienda magari matura, la sua capacità di sostenere il proprio dividendo sarà supportata da questa ampia copertura. Infatti il free cash flow è in continuamento e procede ad impolpare le casse divisa consolidandone la sicurezza grazie a delle fondamenta che diventano sempre più solide e stabili. Bene eccoci arrivati anche alla fine di questo video, se il contenuto è stato il tuo gradimento ti chiedo la cortesia di farmelo capire con un bel polligione in su per l'algoritmo di YouTube e anche ovviamente per la mia soddisfazione personale. Lasciami un commento e dammi le tue impressioni in merito. Se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo per cortesia di cliccare la campanella delle notifiche e di iscriverti a questo canale in maniera tale che tu non possa perderti nessun contenuto pubblicato successivamente. Bene anche per oggi è tutto, non mi resta solo che dirti arrivederci a un prossimo video. Ciao a presto!